Siamo notati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la Santa Messa Prefestiva della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Abbiamo sentito tutte le letture, sia pur in maniera differente, parlare del Figlio dell'Uomo, che è il titolo con cui Gesù stesso si appellava, o comunque di Gesù come Re. Perché la prima lettura ci ha ricordato che questo essere simile al Figlio d'Uomo riceve da Dio potere, gloria e regno, un potere eterno che non tramonta mai e un regno che non sarà mai distrutto. È evidente l'allusione al Nostro Signore Gesù Cristo. Ancora la seconda lettura, tratta dall'Apocalizia, ci ha ricordato che Gesù Cristo è, oltre che il testimone fedele e il primo gemido dei morti, il sovrano dei re della Terra. L'espressione anche questa chiarissima. Ancora l'Alfa e l'Omega, quindi l'inizio e la fine della storia. E che questo regno un giorno sarà palesato, reso evidente, anche a quelli che lo trafissero. Quindi anche a quelli che non lo hanno riconosciuto come tale, che lo hanno storicamente tolto di mezzo, come vedremo, perché Gesù è stato tolto di mezzo dal punto di vista storico, proprio con l'accusa di farsi re, e invece ci sono altri che non lo tolgono di mezzo storicamente, perché Gesù è morto una volta sola, ma lo tolgono di mezzo dalla propria vita. Come una cosa inutile, come un intraccio. E qui c'è una profezia. Viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà anche quelli che lo trafissero. E per lui, questa è una profezia, attenzione, tutte le tribù della terra si batteranno il petto a causa sua. Poi riprenderemo forse questa espressione. Il Vangelo ci presenta la scena drammatica e paradossale di Gesù, condannato a morte, già sottoposto a non poche torture della sua passione, fragellazione con un'azione di spine, che si presenta dinanzi al rappresentante del più grande impero allora esistente. Era lui. In uno dei momenti, sapete, dei suoi massimi splendori, sapete che Gesù Cristo è vissuto in parte in contemporanea con il regno di Cesare Augusto, in parte sotto Tiberio. Siamo in uno dei momenti più floridi dell'impero romano. Quindi sta proprio dinanzi al potere politico per antonomasia sulla terra e Pilau gli dice, ma tu sei re? Dice, sì, io sono re, ma non come te. Perché se fossi re come te, i miei serbi avrebbero fatto il finimondo, perché non fossi catturato e avrebbero vinto. Ma io non sono re come te, il mio regno particolare. Questo è un pochino il quadro, ecco, in cui viene questa festa. Attenzione adesso, se noi guardiamo l'iscrizione, sopra si vede un pochino, della condanna di Gesù. È esattamente quello che gli è depilato. Tu sei re dei giudei, sopra la scritta di Gesù tutti quanti sappiamo, c'è la famosa scritta che è Inri, cioè Iesus Nazarenus Rex Iudeum. Gesù Nazareno, re dei giudei. Cioè, qual è stato il pretesto con cui Gesù è stato condannato a morte? È un reato del codice penale romano. Siccome l'imperatore è Cesare, io non posso andare in giro a dire che io sono il re dei giudei, d'accordo? Perché si chiama delitto di lesa maestà. Io attento all'autorità dell'imperatore. Sapete, chi accusava falsamente Gesù diceva, guarda che questo si fa re, si sta creando la sua setta, e il suo cerchio di seguaci che tra poco fanno la rivoluzione e vogliono mettersi contro Roma. E dicevano a Pilato, guarda che se non lo condanni non sei amico di Cesare, andiamo a fare la spia, perché questo sta facendo queste cose. Gesù non aveva nessuna intenzione di fare queste cose, è stato il pretesto. Quindi è stato messo in croce, appunto perché si faceva re. Questa è una delle tante cose, e gli è stata messa una corona di spine in testa. Capite quanto è paradossale, capite? Cioè, lui non voleva farsi re come era Bonzio Pilato. L'imperatore poteva dormire tranquilli. Tutti quanti i re della terra possono dormire tranquilli. Gesù non è uno che va a fare di concorrenza, che gli toglie lo trono, gli toglie lo scettro, gli toglie i sudditi o gli toglie il potere, ma lui sta su un'altra dimensione, che è al di sopra di tutti questi piccoli e umani regni terreni, perché lui c'è un campo in cui vuole regnare, uno solo, che è il cuore e l'anima dell'uomo, di ogni uomo. Sentiremo dire poi un bellissimo prefazio di questa messa, che il regno di Gesù non ha confini spaziali, quindi non è che c'è l'Italia, c'è la Russia, c'è lo Zambia, il Brasile, cioè è universale, quindi chiunque può far parte di questo regno, attenzione, purché lo voglia, perché a differenza di tutti quanti gli altri re e regni della terra, voi sapete, no? Se io nasco, facciamo un posto dove c'è ancora il re, in Inghilterra, in Inghilterra c'è ancora la regina, d'accordo? Se io nasco in Inghilterra, io sono suddito della regina di Inghilterra, sia che mi piace, sia che non mi piace, sia che lo voglio, sia che non lo voglio, d'accordo? Non mi scelgo né il re, né il regno, né l'essere suddito, lo sono, punto e basta, d'accordo? Per forza. Il regno di Gesù non è così, perché nel regno di Gesù fanno parte solo coloro che lo desiderano, lo vogliono e lo scelgono come proprio re. Quando Gesù dice a Pilato, io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità e attenzione, chiunque dà la verità ascolta la mia voce, sta dando proprio la più bella spiegazione delle caratteristiche della sua regalità. Come fa Gesù a regnare dove vorrebbe regnare, cioè nel nostro cuore? Come fa? Come fa? E quindi noi oggi, al termine, tra qualche minuto, quando finirà questo merito, dobbiamo chiederci, Gesù, tu sei il re del mio cuore, veramente? Sicuramente, lo fa in una maniera molto molto semplice. Si fa conoscere a chi è disposto a conoscerlo un po', a chi gli dedica un po' di tempo, un po' di spazio. Si fa conoscere come? Attraverso la verità, perché la verità, che è la capacità di conoscere veramente come stanno le cose, anche quelle cose che non sono immediatamente evidenti, come le verità di fede, è una caratteristica tipica di noi esseri umani. Noi siamo persone intelligenti. Io dico sempre anche ai ragazzi del catevismo, dico, guarda, quando andremo dall'altra parte, la prima cosa che Gesù ci chiederà non è se stiamo stati buoni e cattivi. Non è questa. Mi guardano così, come non è questa. La prima cosa che il Signore ti chiederà è questa. L'intelligenza che io ti ho dato, l'hai adoperata? Per esempio, quando pensiamo a Gesù, noi dobbiamo pensarci a Gesù. Gesù si è accreditato come figlio di Dio. Gesù si è accreditato come salvatore universale dell'uomo. Ci pensiamo mai? Cioè, aveva le carte in regola per poter fare queste affermazioni o no? Certo che ce l'abbia. Ha detto che è il figlio di Dio, giusto? Ci sono alcuni miracoli che raccontano i Vangeli che sono testimoniati, attestati da testimoni oculari che l'hanno visto. Quindi, capite, indubbiamente Gesù ha fatto delle cose del tutto soprannaturali, che hanno accreditato il suo essere figlio di Dio. ha detto che io sono il salvatore di tutti, io sono venuto a prendermi su di sé, su di me tutti quanti i mali vostri, a distruggerli. mi sembra che in croce ci sia andato lui a fare polizia. Cioè, non ha fatto come molti re umani, sapete che fanno i re umani? Mettono in croce i sudditi, loro se ne stanno seduti a casa loro, capite? Poi mandano le leggi inigue, le tasse, mandano i sudditi in guerra, loro se ne stanno in poltrona. E questo re fa le cose un po' differenti, capite? Perché in croce si è messo lui per fare stare meglio noi, capite? Quindi, noi dobbiamo chiederci, lo riconosco davvero come tale? E quindi, riconoscendolo davvero come tale, capite? Ogni regno, qui sì, ha le sue leggi. Come fai a conoscere le leggi di un regno? Te le devi studiare, te le devi leggi. Capite? Io lo, quindi, se io ho fatto questo primo step, ripeto, lo dico sempre ai ragazzi, perché ho fatto sempre catechismo, è ragazzi che devono fare la cresima, che devono andare davanti al vescovo a dire, io voglio essere cristiano, perché questa è la cresima, lo scelgo io. Dico, ma se tu lo scegli, tu devi fare questa scelta con cognizione di causa. Venendo al catechismo, non ti devi soltanto essere imparato qualche cosa, tu ci devi pensare. Ci credi veramente che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Facendo funzionare il cervello, capite? Perché Gesù, e così anche quando sentiamo qualcuno in giro, e noi il cervello dobbiamo farlo funzionare, perché non è che possiamo dare credito al primo che incontriamo per strada, perché io do credito a chi è credibile e attendibile. Gesù lo è, sotto tutti i punti di vista. Se lo è, conosco le sue leggi e capisco che le sue leggi sono dettate solo per il mio bene, e se le accolgo, li osservo, certamente che lo faccio contento, ma sapete perché Gesù è contento? Lo faccio contento perché osservando le sue leggi, io campo bene e siccome lui mi vuole bene, è contento che io campi bene. Quindi una caratteristica proprio tipica è quando una persona ti tratta così, e questo ci dà anche, come dire, la misura con cui dobbiamo trattare tutti, vuol dire che ti ama e che ti rispetta profondamente, perché non ti impone le cose. Si propone, cioè, tra poco comincia dal vento, comincia dal Natale, io in conclusione, io vi confesso, ogni volta che penso al Natale, se ci pensiamo bene, rimango completamente proprio, ma capite, la notte di Natale è nato Dio sulla terra, non lo sappia nessuno, nessuno, non se ne è accorto nessuno, se ne è accorti, quattro pastori, quattro poveracci che sono andati a, capite, è un modo strano, è un modo di fare, noi ci immagineremmo tutte quante le messe in scena, le impalcature, qui oggi si festeggia il re dell'universo e Gesù ha fatto vedere di sé, l'unica legalità che ha fatto vedere di sé è quella con cui è stato torturato e burlato, spine in testa, scanna di scettro in mano e una clamide rossa addosso per prenderlo in giro che faceva l'imperatore, capite, si propone in questo modo, capite, così, così disarmato, così rispettoso, capite, perché, perché rende testimonianza alla verità, perché vuole che tu faccia un, itinerario, personale, dove usi anche la tua intelligenza per comprendere che lui davvero è il salvatore, quindi per farlo tuo, per farlo tuo re, con cognizione di causa, onorato, capito di essere suo suddito, non, come dire, operato, o perché ti consideri che chi lo sa che cosa sia di difficile la vita cristiana. ecco, chiediamoci in questa Santa Messa se io veramente riconosco Gesù come il mio re, sono felice di essere, diciamo così, suo suddito, lo diciamo per farci capire, ma Gesù non ha montato questi termini, perché poi i sudditi del suo regno sono suoi amici, sono suoi figli, d'accordo, sono suoi amatissimi, non c'è un rapporto di servizio, c'è un rapporto di amore profondo tra lui e i suoi. chiediamocelo e chiediamoci anche quanto tempo dedichiamo a conoscere meglio il nostro re per servirlo meglio, perché la nostra vita sia migliore e lo è e questo ci annuncia la fede, questo ci annuncia la Chiesa, tanto quanto serviamo più e meglio Gesù come nostro unico Signore senza volgerci ad altri dei, ad altri idoli, ad altri re. chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti ad accoglierlo come unico re e unico Signore nella nostra vita. Siamo notati Gesù e noi.